Amici del software libero Bensource, benvenuti o bentornati in questa centotredicesima puntata del podcast di Marco's Box. Avete visto? Ho mantenuto la parola, non ho più fatto passare 15-20 giorni dall'ultima puntata del podcast, ma siamo qui dopo una settimana esatta dall'ultimo episodio, quindi bravo Marco, mi do una pacca sulla spaga da solo per aver mantenuto la promessa. Bene, apriamo questa puntata parlando di Xiaomi o Xiaomi, come cavolo volete pronunciare voi? In realtà si dovrebbe pronunciare Xiaomi, quindi dovrei averlo pronunciato correttamente questa volta, la prima volta che pronuncio un termine cinese senza insultare la mamma di qualcuno. Bene, perché parliamo di Xiaomi? Xiaomi lo conoscete, il famoso brand della tecnologia cinese, famoso in più per i suoi smartphone, ma che in realtà produce una marea di dispositivi elettronici e non. Io a casa ho lampadine, ho tagliaunghie della Xiaomi, se seguite il gruppo Telegram di Marco's Box sapete che ho acquistato anche un tagliaunghie della Xiaomi. E sapete anche il mio rapporto di amore-odio verso questo brand, che è meglio più odio che amore, perché io continuo a comprare i prodotti Xiaomi e continuo a lamentarmi dei bug, dei problemi che incontro con questi dispositivi. E questo è il motivo per cui non acquisterò mai un CyberDog. Sì, avete capito bene, Xiaomi ha deciso di presentare un suo dispositivo chiamato CyberDog, che come lascia presa in giro il nome, è un robot quadrupede a forma di cane, che strizza l'occhio a quello più famoso del Boston Dynamics, scusate, stavo confondendo con il nome della famosa società di Fringe che si occupa di eletto. Vi ricordate Fringe e i telefilm? Spero di non essere l'unico amante di quelle telefilme, è un peccato che l'hanno fatto finire subito e l'hanno fatto finire in quel modo. Comunque, torniamo alla notizia del CyberDog e torniamo al perché. Se vi sto parlando di questo robot quadrupede sperimentale che Xiaomi ha deciso di lanciare sul mercato, bene parlo semplicemente perché come sistema operativo hanno scelto di utilizzare Ubuntu. Ebbene sì, viene utilizzato Ubuntu 18.04 per programmare e far funzionare questo cucciolotto robotico. Questa comunque è una notizia che non sorprenderà di certo gli sviluppatori di robotica, perché per più di un decennio Ubuntu ha supportato la comunità della robotica fornendo una base stabile a diversi progetti di robotica open source e quindi diventando di fatto appunto la scelta principale per tutti quanti quegli sviluppatori che sviluppano tecnologie robotiche. Su Marcosbox trovate maggiori informazioni e trovate anche un video di questo simpatico quadrupede che spero di non avere mai in casa. Viva i cani veri, abbasso i cani robot che magari ti possono uccidere durante la notte e prendere il controllo e vabbè, sapete come sono queste cose nei romanzi e nei fini di fantascienza. Restiamo in ambito Ubuntu parlando di PopOS, una delle derivate più apprezzate e note di Ubuntu e una delle derivate più chiacchierate anche negli ultimi settimane per via di diverse vicissitudini. Ricorderete senz'altro quello che è successo a Linux del canale YouTube Linux Tech Tips che tentando di installare Steam a causa di un pacchetto malformato presente all'interno dei repository di PopOS si è visto distruggere la distribuzione. Abbiamo visto poi recentemente anche la notizia riguardante la decisione dei team di sviluppo di PopOS di crearsi un proprio desktop environment completamente indipendente scritto in Rust che andrà a soppiantare l'attuale implementazione di Gnome con Cosmic quella serie di estensioni per Gnome e Shell che abbiamo su PopOS. Adesso arriva anche un ulteriore passo che mira a rendere PopOS più indipendente perché Jeremy Soldier, ingegnere principale di System76 manutentore di PopOS e di Redox OS ha confermato su Twitter che in occasione del rilascio di PopOS 21.10 cui il rilascio dovrebbe arrivare a breve System76 ha deciso di spostare il sistema di complicazione e di repository da Launchpad.net di Canonical su di un repository apt self-hosted che trovate l'indirizzo su Marcosbox quindi per andare a vedere cosa contiene. La decisione è stata motivata dalla necessità di migliorare il controllo sugli aggiornamenti dei pacchetti e anche ridurre il tempo per compilarli testarli e rilasciarli. L'ingegnere poi rispondendo ad un utente che si domandava se questa decisione fosse connessa ad un imminente passaggio da Ubuntu a Debian quindi ribasare la distro da una distro all'altra ha trasi rassicurato agli utenti che questo non è legato al cambio di base per lo sviluppo della distro ma appunto è legato ai suscitati motivi. E che dire? È una decisione importante quella da parte del team di PopOS che sta investendo numerose risorse per questa distribuzione System76 ci crede ci crede allo sviluppo di PopOS d'altronde System76 con i suoi computer offre un'esperienza desktop anzi un'esperienza non soltanto desktop un'esperienza comprita all'Apple maniera perché fornisce hardware e software software pensato specificatamente per girare sui propri computer e quindi di conseguenza una decisione come questa è una decisione naturale così come una decisione naturale è quella di svilupparsi un desktop environment interamente in casa perché avere maggior controllo sul software significa fare come fa Apple quindi ottimizzare il software per le proprie macchine e quindi offrire una migliore esperienza utente agli acquirenti a quelli che acquistano computer equipaggiati computer venduti da System76 equipaggiati con questa distribuzione quando vedremo tutti questi cambiamenti vabbè il cambiamento quello dei repository come avete avuto modo di vedere è immediato perché ci sarà a partire da PopOS 21.10 per quanto riguarda il desktop environment a mio avviso ci vorrà ancora molto tempo perché non credo proprio che System76 riasci un qualcosa di immaturo e incompleto e lo riasci anche come opzione di acquisto per quanto riguarda gli utenti quindi Pop77 appunto vendendo hardware ha bisogno di propinare anche un sistema operativo con un desktop environment stabile molto probabilmente secondo me continueranno a offrire una base LTS di Ubuntu con ancora basata su Gnome e poi nelle varie rilesi semestrali magari al prossimo giro alla prossima LTS quando il nuovo desktop environment sarà abbastanza maturo lo propineranno come opzione di sistema operativo per quanto riguarda l'acquisto delle proprie macchine comunque vedremo è in bocca al lupo a PopOS continuiamo a parlare di distribuzione parlando di OpenSUSE RIP 15.4 qualche giorno fa c'è stato l'annuncio da parte del team di OpenSUSE di rendere disponibile la versione alfa di OpenSUSE RIP 15.4 è possibile scaricare direttamente dal sito getopensUSE.org la quarta versione minore di RIP 15 è entrata quindi nella fase di sviluppo alfa secondo la roadmap ci sarà una versione beta della distribuzione attorno al febbraio quindi attorno al 16 febbraio salvo imprevisti dall'ultimo minuto mentre per la versione stabile di OpenSUSE RIP 15.4 è prevista per giugno 2022 ovviamente essendo una versione alfa questa qui una prima versione alfa è destinata ad utenti consapevoli entusiasti di stropper e quant'altro pronti a testare pronti a non spaventarsi in caso di bug di regressioni di quant'altro e pronti anche a diciamo così a mettere a servizio la propria esperienza per contribuire alla risoluzione di questi bug maggiori informazioni su dove scaricare questa versione alfa di OpenSUSE RIP 15.4 le trovate su Marcosbox questa settimana c'è stata un'attesissima notizia riguardante Blender la Blender Foundation ha infatti annunciato il riascio di Blender 3.0 questa nuova major erase del famoso software libero multiplattaforma di modellazione rigging animazione montaggio video composizione rendering texturing di immagini ma anche CAD 3D cioè praticamente con Blender ci si fa anche il caffè un altro poco questa nuova versione segna l'inizio di una nuova era per la creazione dei contenuti 2D e 3D OpenSource perché sono state riscritte diverse componenti sono state fatte diverse ottimizzazioni che rendono Blender sempre più potente una delle novità principali per esempio di Blender 3.0 è l'aggiornamento del motore di rendering Cycles che è stato riscritto per offrire prestazioni migliori con un rendering che va da 2 a 8 volte più veloce nelle scene del mondo reale sono stati fatti miglioramenti per quanto riguarda la vista 3D quindi adesso è più facile spostarsi è stato aggiornato Open Image The Noise che è stata aggiornata nella versione 1.4 con una migliore conservazione dei dettagli c'è stata aggiunta un'opzione che consiede di ridurre gli artefatti nelle ombre che spesso si verificano con i modelli copoli un nuovo catturatore delle ombre completamente riscritto tempi di compilazione del kernel ridotto per Nvidia OptiX e altre ottimizzazioni sempre per quanto riguarda il rendering per Nvidia OptiX la qualità del campionamento del volume ed ora la stessa sia per GPU che GPU sono state fatte tantissimi miglioramenti delle prestazioni che appunto faranno piacere a tutti quanti gli utenti che utilizzano Blender anche a livello professionale e di sicuro fra gli utenti contentissimi di questa nuova rilascio di Blender ci sono gli utenti di Decentraland che cos'è Decentraland è una piattaforma di realtà virtuale 3D decentralizzata composta da un praticamente un numero di appezzamenti di terreni virtuali sui quali si possono costruire immobili virtuali che possono essere venduti sotto forma di NFT che possono a sua volta essere acquistati mediante la criptovaluta mana che si basa sulla blockchain di Ethereum se non sapete se non avete capito niente di tutte queste parole che sto dicendo schippate direttamente questa parte praticamente fa parte di tutto quell'universo delle criptovalute degli NFT che sta spopolando negli ultimi anni perché gli utenti di Decentraland sono contentissimi di sicuro saranno contentissimi del rilascio di Blender 3.0 beh perché la stragrande maggioranza dei creatori che animano il metaverso di Decentraland utilizzano Blender per poter progettare e costruire le proprie aggiunte al metaverso di Decentraland e che cosa è successo? è successo adesso che un utente della community della piattaforma di governanza di Decentraland ha chiesto perché non ci uniamo non supportiamo lo sviluppo di Blender visto che la maggior parte degli utenti che fanno parte della community utilizza Blender e la decisione è stata praticamente accolta da tutti quanti gli utenti di Decentraland che hanno sostenuto in maniera unanime questa richiesta e Decentraland ha deciso dunque di entrare a far parte del fondo di ZOOP di Blender entrando come membro patron quindi Decentraland di fatto diventa il primo progetto cripto nativo a sponsorizzare un fondo di sviluppo nella fattispecie un fondo di sviluppo di Blender andandosi ad aggiungere a tutta quella serie di big del mondo dell'informatica che nel corso degli ultimi anni hanno deciso di supportare di sponsorizzare lo sviluppo di Blender e che di chapeau sempre come al solito a Blender che riesce a raccogliere soldi praticamente da qualsiasi tipo di progetto da industria dei videogames da community cripto native da sviluppo di software e tutti quanti vogliono dare i soldi a Blender complimenti complimenti passiamo adesso al mondo dei programmi del software libero open source e parliamo di uno dei progetti più amati dai grandi e piccini ovvero di firefox mozilla ha annunciato il rilascio della versione 95.0 del suo famoso browser che ormai è l'unica alternativa allo strapotere dei browser basati su chromium è rimasto soltanto lui a combattere come don kishotte contro contro un mondo che è completamente basato su browser basati su chromium a parte vabbè sa fare ma quello fa storia si in questa nuova versione di firefox troviamo rlbox che è una nuova tecnologia che rafforza firefox contro potenziali vulnerabilità di sicurezza nelle librerie di terze parti che adesso è abilitata per impostazioni predefinite su tutte le piattaforme quindi anche nella versione per windows mac os e linux maggiori approfondimenti su rlbox ritrovate su un articolo che ho pubblicato su marcosbox dedicato appunto a rlbox le altre novità della versione 95 di firefox riguardano anche gli utenti windows ad esempio perché adesso è possibile scaricare firefox direttamente dal microsoft store sia su windows 10 che su windows 11 non so quante persone scaricano un software come questo da microsoft store però fa piacere vedere che approda anche lì le altre novità riguardano un ridotto utilizzo della cpu su mac os in firefox e windows server durante l'elaborazione degli eventi un ridotto consumo di energia durante la riproduzione di video codificati via software sempre su mac os specialmente a schermo intero e questi praticamente include i siti di streaming come netflix amazon prime video e quant'altro una modifica invece che riguarda tutte quante le versioni per computer riguarda una modifica che è stata portata al pulsante picture in picture praticamente aggresso all'interno del menu contestuale del pulsante picture in picture c'è una nuova opzione che si chiama sposta selettore picture in picture sinistra nel menu contestuale che va praticamente a spostare il pulsante del picture in picture sul lato opposto del video è una stonzata però magari alcuno può piacere e altre novità riguardano modifiche che sono state adoperate per la sicurezza per proteggere meglio gli utenti di firefox dagli attacchi side channel come spectre adesso site isolation è abilitato per tutti gli utenti per tutti quanti gli utenti di firefox 95 miglioramenti poi per quanto riguarda gli utenti che utilizzano lo screen reader javas e zoom text quello che serve per ingrandire il testo che non avranno più bisogno di cambiare applicazioni per accedere a firefox quindi una modifica importante per gli utenti non vedenti e ipo vedenti migliorate anche le prestazioni nel caricamento delle pagine con javascript e miglioramenti qua e là e correzioni e vabbè le solite correzioni di bug io negli ultimi mesi anzi nell'ultimo mese ho deciso di impormi l'utilizzo di firefox sia sul computer che su android quindi da mobile e lo sto lo sto riapprezzando perché era ormai da diverso tempo che utilizzavo principalmente google chrome e con qualche con qualche diciamo così passeggiatina su microsoft edge e che dire mi sta ritornando la voglia mi sta ritornando l'interesse verso verso firefox quello che mi manca e vabbè ovviamente è nella versione mobile che mi manca tantissimo la possibilità di avere un traduttore delle pagine su integrato all'interno del browser perché lato desktop si può bypassare con una estensione di cui vi ho parlato qualche tempo fa su marcosbox però lato mobile no però vabbè diciamo che anche questa autoimposizione nell'utilizzo di firefox come browser predefinito anche su sul telefonino mi sta costringendo a rispolverare l'inglese perché quando c'è qualche passaggio che non mi è chiaro quando c'è qualche termine che non mi è chiaro mi sforzo ad andare a cercare il termine non faccio più pigramente clic sul tasto traduci per andare a tradurre la pagina e vabbè quindi vedete ha anche gli svolti positivi questa mia scelta voi utilizzate firefox vi piace firefox fatemi sapere cosa ne pensate dovremmo utilizzare tutti firefox se non altro per dare un segnare a a google ormai praticamente c'è di fatto una situazione di monopolio e mi sono accorto che in questo caso è anche molto pericoloso perché un'eventuale vulnerabilità zero day in chromium va a impattare praticamente su tutti i browser potrebbe fare enormi danni e concludiamo questa puntata del podcast di marcosbox con un editoriale che ho pubblicato qualche giorno fa l'editoriale si chiama diffusione gnu linux cosa è cambiato in dieci anni perché cosa è cambiato in dieci anni che cosa è successo vi faccio un po' di storia di questo di questo di questo editoriale e perché l'ho scritto nel lontano 2011 quindi due anni dopo la creazione del blog ho scritto un articolo dal titolo diffusione di gnu linux dichiara colpa articolo che poi successivamente ho aggiornato nel 2016 a 5 anni dalla sua stesura e adesso sono passati dieci anni esatti dal primo articolo ho deciso di fare un aggiornamento di questo di questo post e nel quale vado ad analizzare le cause della mancata diffusione dei sistemi verdivi gnu linux in ambito desktop sono passati dieci anni sono passati tantissimi anni e fortunatamente alcuni problemi sono un lontano ricordo però ci sono tantissimi problemi che sono ancora qui che sono emersi anche recentemente nei video di linux tech tips problemi che sono difficili ancora da risolvere e comunque andatevi a leggere l'articolo vado a parlare sia di hardware delle applicazioni dei problemi con la pubblica amministrazione dei problemi dovuti anche a noi piccola utenza e i soliti problemi annosi della frammentazione e vabbè dei mancato supporto dei big del mondo gnu linux lato desktop e vabbè andatevi a leggere l'articolo è inutile che vi sto qui a fare un riassunto dell'articolo e ci tengo soprattutto a sapere la vostra opinione in merito ho visto che ci sono soltanto per adesso tre commenti mi aspettavo più commenti in passato ho ricevuto tantissimi commenti sui primi articoli non lo so segno che anche in quel periodo la comunità linux italiana era più attiva anche su queste tematiche ci si scannava facilmente ci si si voleva dire la propria per questi argomenti e adesso vedo anche dal punto di vista delle visite del blog un calo di attenzione nei confronti del mondo linux impennata di visualizzazioni ce l'ho soltanto quando si parla per esempio di ubuntu e di qualche problema di ubuntu e quant'altro quindi la percepisco questa mancanza di interesse nei confronti di linux complice complice anche il fatto che ultimamente i sistemi operativi di microsoft vanno vanno bene e complice anche il fatto che moltissimi utenti si sono orientati verso dispositivi mobili diciamoci c'è tantissima gente che dice o lo smartphone o il tablet posso fare tutto da lì e in effetti sotto alcuni punti di vista non gli si può dare torto anche se recentemente questa pandemia ci ha ricordato che i computer sono molto importanti ed è importante anche il sistema operativo per quanto riguarda questioni di sicurezza e quant'altro comunque davvero andatevi a leggere questo editoriale e fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento e con quest'ultima notizia si conclude qui questa 113esima puntata del podcast di marcosbox vi ricordo come sempre che se volete potete supportare il blog mediante amazon su marcosbox trovate il link di affiliazione acquistando prodotti su amazon utilizzando il mio codice referral un piccolo a parte del ricavato dei vostri acquisti mi verrà restituito da amazon sotto forma di buoni sconto vi ricordo di seguirmi sui social mi trovate sulla pagina facebook mi trovate col profilo personale su twitter ma anche con il profilo ufficiale anche se quel ufficiale praticamente non viene utilizzato quasi mai perché è un profilo ufficiale che è stato creato in attesa che si liberi marcosbox quello senza punto org perché qualche disgraziato si è fregato il profilo twitter marcosbox vi ricordo di seguirmi su youtube dove ogni tanto pubblico qualche video ma trovate anche che queste puntate del podcast riproposte per youtube e per tutti quegli utenti che preferiscono utilizzare youtube per la funzione di questo contenuto mi ritrovate sulle principali piattaforme di podcasting e vi ricordo che sono presente su telegram con il canale ufficiale di marcosbox con il canale o meglio con la community di marcosbox su telegram dove si può parlare di tutto non soltanto di linux e trovate anche il canale dell'offerta collegato all'offerta di amazon quindi ogni tanto posto qualche offerta quindi sempre riferitarla a referral per supportare il blog lunga vita e prosperità a tutti quanti buona festa dell'immacorata visto che lo sto registrando giorno 7 domani è l'immacorata e buon ponte buon quello che dovete fare e ci sentiamo la prossima settimana ciao ciao